Questa volta sarà calcio d'agosto solo per il calendario. Da domani e per tutto il weekend si comincia a fare sul serio e a giocare per i tre punti. Riparte la Serie A e con lei il Verona che domani sera alle 20.45 ospiterà il Napoli al Bentegodi e il Chievo di scena domenica Udine sempre alle 20.45 contro l'udinese dell'ex del Neri. Il Verona condizionato durante la preparazione da diversi infortuni soprattutto in difesa e da una squadra tuttora incompleta sulla carta a poche chance con il Napoli. La curva a sud è chiusa per squalifica mentre il settore dei tifosi napoletani si preannuncia gremito. L'ex Pecchia, bandiera del Napoli da calciatore e vice di Benitez sulla panchina partenopea per tre anni, recupera il centrale Ertò che farà coppia con Caceres, Ferrari e Supraieni, Terzini, centrocampo con il trio Romulo Zuculinebessa. Davanti Pecchia opterà per il tridente Pazzini-Cerceverde. Noi vogliamo sempre proporre calcio, ha detto oggi il tecnico. Partita sulla carta più aperta, quella di Udine, dove il Chievo riparte dai suoi equilibri consolidati e dalla certezza del suo allenatore, Rolando Maran.